Non è un modello a confusione, è ogni diverolazione, e non sappiamo niente per le salle. Io a ti venga e montare, adesso siamo messi male, e siamo rovinati e volare. Noi vogliamo il sessanta, il sessanta, il sessanta. Con il circuito elementare, il flusso tu dovrai provare, e vale e sessanta all'esame. E di sfortuna c'è, è grande e basse, è buona carta, noi vogliamo solo il sessanta, il sessanta, il sessanta.